C'è ancora domani, tutto quello che c'è da sapere sul film di Paola Cortellesi. Il fenomeno cinematografico italiano del 2023 arriva finalmente su Netflix il 31 marzo. Dallo stesso giorno in onda anche su Sky Cinema 1 e in streaming su Now. Il nome di Paola Cortellesi non è certo nuovo per il pubblico italiano, grazie a decenni di carriera come comica e attrice, ma con C'è ancora domani, si è aggiunto un notevole nuovo tassello nel suo curriculum, che è quello della regia. Niente male come esordio, dato che dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2023 il film è diventato il maggior incasso italiano dell'anno. Gli incassi estivi sono sembrati noccioline in confronto all'accoglienza ricevuta nelle sale nostrane da C'è ancora domani, uscito il 26 ottobre 2023 e premiato con 1,6 milioni di euro solo nel primo weekend di proiezioni. Il film è poi andato a venti raggiungendo l'incasso totale di oltre 36 milioni. Il triunfo in patria non è passato inosservato, tanto che altri 16 paesi hanno successivamente acquisito i diritti internazionali. Danimarca, Finlandia, Norvegia, Grecia, Spagna, Australia, Benelux, Brasile, Svezia, Portogallo, Svizzera, Ungheria, Taiwan, Bulgaria, Israele e Francia. La risposta di pubblico è critica nei confronti di C'è ancora domani, parla a volume altissimo di quanto i temi della violenza di genere e dei diritti delle donne abbiano necessità di essere discussi in maniera approfondita e seria. C'è ancora domani, è interamente girato in bianco e nero, un po' per ricreare l'atmosfera adatta per l'ambientazione del 1946 e un po' come omaggio alla grande tradizione italiana dei film neorealisti. Parte della storia di Delia, sceneggiata da Cortellesi insieme a Furio Andreotti e Giulia Calenda, è ispirata ai racconti della nonna della regista, nata e cresciuta a Roma ma con legami familiari anche in Abruzzo. La maggior parte delle location esterne del film è stata girata nel rione Testaccio, mentre gli interni sono stati ricostruiti negli studi di Cinecittà. Paradossalmente, l'unica occasione in cui, c'è ancora domani, ha attirato poco pubblico è stata durante una delle sue proiezioni più prestigiose. Il 23 novembre 2023 il film è stato infatti proposto nell'Aula del Senato della Repubblica italiana, come gancio per discutere della, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, del 25 novembre. Purtroppo la partecipazione non è stata delle migliori. Con la notevole assenza della premier Giorgia Meloni. La coppia protagonista del film è formata da Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Un duo cinematografico che ha già dimostrato di saper lavorare insieme con risultati straordinari grazie a Figli, scritto da Mattia Torre nel 2020.